Sarà il suggestivo lungomale di Cannigione ad ospitare la terza edizione del Silent Sardinia Festival. La rassegna, diretta da Michele Moi, autore di colonne sonore di teatro per l'infanzia a livello europeo e musicista di origine sarda, si conferma come appuntamento ricorrente dell'estate gallurese con una edizione ricca di offerta culturale che coinvolgerà capillarmente il nord-est della Sardegna con un fito calendario di spettacoli, oltre 50 repliche gratuite di musica, kids, teatro per le famiglie, yoga e meditazione. Si partirà giovedì 5 agosto con un suggestivo evento tutto dedicato allo yoga a Parco Riva Azzurra, la prima edizione di Silent Sound Yoga Night con ben nota attività legate allo yoga, fitness e meditazione a cura delle scuole di Arzachena e coordinate da Laura Basile di Setuara Yoga che coinvolgeranno il pubblico dal tramonto sino alle 23. A chiudere la serata Ex Static Dance, una particolare forma di meditazione dove i partecipanti danzano liberamente, ed il concerto di Frank Perry. Venerdì 6 agosto sarà la volta del beatbox ed è il concerto dell'armonicista sardo Moses Concas a Parco Riva Azzurra. Andranno in scena insieme a Moses il chitarrista spagnolo Borgias Catanesi, il direttore artistico del festival Michele Moia al violino elettrico ed il vincitore del Silent Beatbox Contest 2021, il giovane talento listanese Daniel Marrocco. Il concerto sarà suddiviso in due set della durata di 45 minuti, uno alle 21.45, l'altro alle 23.15. Per i più piccini, sempre a Parco Riva Azzurra, in scena Full Metal Ginger, con due repliche rispettivamente alle 21.30 e alle 22.45. Il festival si chiuderà sabato 7 agosto con la Silent Kid Night, una serata dedicata a famiglie e bambini.